Ed è così che inizia la nostra giornata lavorativa, divisa pulita addosso. Anzi, ringrazio i miei fornitori di divise, quelli dove ho il mio logo registrato, che mi fanno le divise personalizzate, dove noi organizzeremo, prepareremo dei grembiuli per voi, per chi volesse sullo shopping online, stanno grembiuli con vari temi, esempio mi piace cucinare, passione per la cucina, oppure fiera del mio hobby e tanti altri temi a scelta, ci sarà anche il mio autografo. E quindi niente ragazzi. Il mio capo chef, il mio capo chef di un albergo dove ero un capopartita all'epoca, c'ho 29 anni ma già ho girato parecchi alberghi, villaggi a 4-5 stelle, il mio ex capo chef, in particolare ne ricordo uno, che aveva due stelle Michelin, era anche Metr, Dino Cauteruccio, molti lo conoscono, Cauteruccio, Accademia del Peperoncino, sta da 30 anni nella Federazione Italiana Cuochi, con il collare, insomma un maestro di cucina, quindi Dino Cauteruccio, che è un executive chef, stelle Michelin e anche Metr, mi diceva sempre, noi quando veniamo in cucina è come quando andiamo al primo appuntamento, perché per uno chef è la cucina la donna che lui ama, quindi è come quando vai dalla tua ragazza, è come quando vai al tuo primo appuntamento, deve fare tutto a bello, divisa pulita, grembiule pulito, cappello pulito, è così ragazzi, purtroppo è così, ora, ieri vi ho detto che il sito già è online, però già è possibile, quindi è possibile ordinare da ieri, ma ancora prima che era pronto il sito, era possibile ordinare, perché giustamente le persone mi chiedevano che cosa prepari, e cosa non prepari, allora mi dicevano, ma sì che c'è, perché non me ne mandi una a me così, colà, ti mando l'indirizzo, quindi già prima della partenza del sito noi vendevamo online, ecco, ora mi sono preso il caffè, adesso niente, guanti, la mia favolosa mascherina, la mia favolosa mascherina, e niente ragazzi, io sto continuando ad avere ordinazioni, c'ho lì l'agendina con tutte le ordinazioni, e niente, vi aspetto online, vi aspetto sulla pagina youtube, chef Giovanni Pantaleo, vi aspetto sulla pagina instagram, giovi 1991, vi aspetto sulla pagina youtube, chef Giovanni Pantaleo, sul sito web, dove è possibile ordinare panettoni tutto l'anno, e noi oggi, che richiediamo sul sito, addirittura già le cose di carnevale, voi oggi troverete le cose di carnevale, le cose di pasqua, l'uovo di pasqua, tre tipologie di colombe, pastiera, cannoli, siciliani, voi sapete, la mia cucina si distingue per innovazione, rispetto delle tradizioni, rispetto delle ricette originali, tutto fatto con materiale di qualità, tutto fatto con lievito madre, che io vi faccio sempre vi dire gli sviluppi, no? Perché uno può dire, sì, questo qua dice, fa lievito madre, ma io che ne so se è vero se fa lievito madre, lui dice, a parte che si sente, poi uno dice, faccio con lievito madre, con materiale di qualità, e io che ne so, tutti possono parlare, io vedo i fatti, vedo i fatti, esempio, questa è quella famosa frutta secca che noi mettiamo a infusione per i cioccolatini, infuso a frutta secca, frutti di bosco secchi, quindi io come vedete, come si dice, no? Le parole volano e lo scritto resta, quindi è questo, ragazzi, noi facevamo dei rifatti, pistacchio di bronte 70% DOP, frutta di bosco particolare per aromatizzare i vostri cioccolatini, una crema di ricotta, crema di ricotta di qualità, farine di cereali di qualità, noi andiamo dai coltivatori, diciamo, scusami, e mi serve della farina, che farina? C'hai? Com'è? È possibile averne anche 100 grammi da provare? Proviamo le nostre farine, vediamo come vengono, le combiniamo, proviamo come vengono, che sapori hanno in bocca, e tanto tanto altro, e quindi niente ragazzi, ripeto, continuano ad arrivare ordinazioni, oggi mi sono svegliato, ho detto, fammi controllare le mail, perché a me arrivano per email, vedo un ordine, ho detto, saranno cose semplici da fare, un signore che fortunatamente mi ha ordinato 5 cose, 5 cose, 5 cose di cui un panettone, voi sapete, noi facciamo panettoni tutto l'anno, 12 mesi l'anno, 6 gusti, allora ho detto, beh, già il panettone è un pochino di complicato, quindi niente, quindi mi metto subito all'opera, tanto con il lievito madre, il lievito madre ce l'ho, parto subito con il primo impasto del panettone, più le altre cose che mi ha ordinato, quindi noi ci vediamo, mi raccomando, scrivetemi, mettete like, condividete, io vi aspetto, un bacione a tutti sui social, vi aspetto sul mio sito web, metterò tante cose, ragazzi, blog, io vi ho detto, il primo argomento sono le uova, blog, attrezzature, libri, dei piatti gourmet particolari, se volete fare delle figure stupende, quelli usati anche dalle cucine stellate, quei piatti belli, strani, diciamo anche quelli a forma di sedere, che ci sta la fessurina centro, dritta, se volete fare dei piatti scenografici, tanti, tante altre cose, io vi aspetto sui social, sul mio web, per shopping online, per i blog, e tanto tanto altro, mi metto la mascherina, guanti messi, e niente, niente, ora mi metto il grembiule e si parte, ci vediamo, un bacione da Chef Giovanni Pantelio, ricorda il sito web www.chefgevannipantelio.it vi aspetto ragazzi, tanti tanti ordini, mi raccomando, ciao!